ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di mito e misteri scp oggi andiamo a parlare del scp 310 chiamato anche fiamma eterna classe dell'oggetto safe e questo scp non è disponibile una foto procedura speciale di contenimento se non utilizzato in esperimentazione scp da 110 deve essere conservato in una custodia costruttosto vuoto sigillata da 0,3 x 0,3 x 0,3 mm o metri scusate bagliate metri composto da materiale ignifugo la canna di ricerca cerci il conto della custodia al vuoto deve essere allo stesso modo costruita in materiale ignifugo e deve essere saturata di anidide carbonica azoto o un qualsivogli altro agente estinguente quando non si stanno effettuando sperimenti i protocolli stand della fondazione per impedire accesso non autorizzato dovrebbero essere posti in essere non sono consentite sostanze infiammabili o semi infiammabili all'interno della camera di ricerca ad eccezio di piccole quantità ai fini di ricerca è richiesta l'autorizzazione per le teste su soggetti vivi o comunque capaci di locomozione autonoma la cama deve essere tenuta sigillata durante i test e il sistema di aspirazione di emergenza deve rimanere attivo evitato a tutte le persone di adossare abiti larghi all'interno della camera membri delle persone con capelli lunghi devono tenere legati si raccomandano tutte ignifughe memo 310 a vediamo se questo se devo leggerlo anche per l'ultima volta i vestiti larghi includono anche le cravate indipendentemente dal normale codice di abbigliamento del sito vogliono vogliamo evitare altri casi come il di dottor f non devono essere indossati oggetti che potrebbero accidentalmente consentire il contatto con scp310 dottor john drake qualsiasi oggetto che entra in contatto con scp310 deve rimanere nella camera fine a combustione completata qualsiasi articolo o andumento a contatto con scp310 deve essere rimosso il più rapidamente possibile evitando al contempo ulteriori contatti con l'oggetto qualsiasi arto o per questa eventualità devono essere tenuti a portata di mano strumenti chirurgici tra cui seghe per ossa nonché tronchesi e seghe elettriche nel caso in cui i fattori temporali impediscono l'esecuzione di una amputazione più controllata qualsiasi membro del personale di classe d che entra in contatto con scp310 deve essere immediatamente terminato se l'esposizione di scp310 a membri delle persone di classe d fa parte dell'esperimento si raccomanda di bloccare il soggetto per evitare ulteriori contatti accidentali la camera di ricerca deve rimanere sigillata fino a quando tutti gli oggetti esposti a scp310 sono completamente bruciati per te non si raccomanda di limitare le differenze dei soggetti sottoposti a test per evitare lunghi blocchi della camera di ricerca descrizione scp310 è una candela bianca alta 157 mm composto da seco apparentemente standard scp310 è un cilindro di diametro 33 mm non marcato con punta affusolata da cui emerge uno stoppino di 7 mm quando non è messo in oggetto privo di ossigeno lo stoppino produce una fiamma costante alta 24 mm questa fiamma può essere estinta attraverso la maggior parte del momento di convenzionali rimozione di ossigeno inizialmente la fiamma riappare immediatamente comportandosi in modo molto simile a una candela che si riaccende da sola solo una piccola quantità di sego viene lingue fatto alla base dello stoppino e non viene consumata dalla fiamma anche durante la più lunga assenza del contenimento in nessun momento durante questa settimana la quantità di sego o l'altezza di scp310 è stata vista diminuire a parte la sua interazione con la fiamma di scp310 il sego stesso non è anomalo sotto nessun aspetto è facilmente tagliabile e maleabile come ci si aspetterebbe in otto ci si scioglie e brucia normalmente quando esposto ad una fiamma normale qualsiasi sego il rimosso di scp310 viene lentamente sostituito con mezzi sconosciuti se scp310 viene accorciato il sego crescerà dalla sezione vicina alla fiamma fino a quando non viene ripistinata all'altezza originale di 157 mm e l'aspetto senza difetti in un esperimento scp310 è stato collocato in una camera di calore fondendo l'intero volume di sego in modo da che rimanesse solo lo stoppino la fiamma rimase accesa anche senza combustibile e gradualmente mise sego fino a quando non fu ripistinata la sua altezza originale qualsiasi sostanza infiammabile o seminfiammabile che viene a contatto con s cp310 viene accesa con un fuoco a propagazione lenta a difenza della fiamma di s cp310 questo incendio non può essere spento con alcun mezzo noto se non può disaurire la sua fonte di carburante gli esperimenti hanno dimostrato che il fuoco continuerà a bruciare anche nel vuoto sott'acqua in un ambiente saturo di azoto sotto intenso flusso d'aria in ambiente refrigerato incassato in un investimento ignifigo o qualsiasi combinazione di quanto sopra solo il consumo dotato di tutto il materiale infiammabile a contatto con le fiamme provoca il loro spegnimento pertanto in caso di incendio incidentale in particolare del personale la separazione della sezione incendiata dal resto dell'oggetto il più presto possibile è l'unico modo per preservare il resto dell'oggetto esposto gli oggetti disegnati come s cp310 trattino 02 sono anche in grado di diffondere le loro fiamme ad altri oggetti infiammabili o semifiammabili che hanno ulteriori oggetti s cp310 trattino 02 le implicazioni di tale possibilità come causa di una reazione a catena sono decisamente preoccupanti i test hanno dimostrato che il contatto corporeo con s cp310 è simile alla normale immolazione ovvero molto doloroso e dannoso il danno leggermente più esteso di quello delle normali fiamme probabilmente a caso dell'incapacità di estinguere le fiamme e del tasso di diffusione insolitamente lento di s cp310 trattino 02 non sono state osservate proprietà psichiche o memetiche insolite i mezzi con cui gli oggetti s cp310 trattino sia così facile da estinguere anche settemporaneamente recupero s cp310 è stato recuperato dai testi carbonizzati di una frase al di fuori di nel regno unito la natura isolata del sito è probabilmente responsabile delle circoscritte dimensi dell'incendio risultante che i vigili del fuoco hanno tentato di spegnere senza successo per otto ore prima di abbandonare edifici alle fiamme nelle successive vendagini sette persone sono decedute sia a caso del contatto con s cp310 sia attraverso il contatto incrociato con le vittime precedenti l'evento attirato l'attenzione della fondazione s cp310 è stato recuperato senza incidenti a causa delle applicazioni presse dall'agente t sulla base di prove esistenti un ulteriore indagini sul sito rilevato che veniva utilizzato come stati cancellati il coinvolgimento di tale organizzazione potrebbe in qualche modo spiegare perché s cp310 si trovasse dove era come venisse utilizzato e come abbia dato dato origine all'incendio che ha portato al suo recupero da parte della fondazione tuttavia la questione dell'origine di s cp310 è ancora aperta e questa è la storia di s cp310 se il video vi è piaciuto come se vi vi da shambra mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao